Una proposta a misura di cittadino è stata avanzata al Comune di Napoli durante l'ultimo consiglio comunale. Si tratta di pedane e lidi pubblici sullo stesso lungomare di Napoli, realizzare sulle scogliere del litorale partenopeo delle piattaforme in legno, in grado di ospitare stabilimenti balneari e solarium pubblici. Si punta quindi ad un lido alla portata di cittadini, affinché i costi, che sono molto gravosi per quanto riguarda i lidi privati, possano essere ammortizzati in tal senso. La volontà, spiega Flavia Sorrentino, alla quale è partita l'idea, è quella di realizzare piattaforme linee smontabili, sostenibili e realizzate con materiali naturali, in grado di ospitare stabilimenti balneari, solarium, spogliatoi, punti di ristoro e gazebo per tutti i cittadini che vogliono accedere al mare. Questo anche alla luce di una città che si sta confermando sempre di più metaturistica, ma all'interno della quale i costi per i servizi aumentano giorno dopo giorno. Di conseguenza è stata avanzata tale idea che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi ed essere inaugurata quindi nell'estate 2024. Abbiamo infatti superato la metà di giugno e sembra difficilmente auspicabile che tale proposta possa prendere forma già nell'estate 2023.